Prima di dare la parola ai relatori, avendo seguito da vicino la gestazione laboriosa dell'impero di Francesco Maggi, prevaricando il ruolo di moderatore, per me il solito è un po' molto geniale, appozzerò probabilmente il mio pensiero sui già vinti nel cuore il versetto Pabello da cui l'autore ha ricavato il titolo amaro ma non disperante del suo lavoro. Curioso di risentire quelli gravi nella micro storia familiare, Francesco Maggi si è invaduto nelle lette dello zio Armando e in un viaggio del padre Antonio, i due fratelli Maggi, ma ce n'era un terzo Cino, assurdi da impagabili cronisti in un periodo storico dal 1936 al 1944, che comprende l'epidomo del fascismo e la seconda guerra mondiale, visti da soldati. L'unio ognuno lo zio nel mare Egeo, dove si inavvissa tragicamente in una morte misteriosa, combattendo i tedesi al fianco degli inglesi contro i quali era andato a fare la guerra. L'altro il padre che parte a domanda per la corsica, in zona occupata nel luglio 1943 dopo la caduta di Mussolini. Con tali materiali e l'ambito di corrispondenze legate alla sfera degli affetti familiari, l'autore ha scavato sui fatti e attestati dai documenti ritrovati, in modo da collegare i comportamenti e i valori espressi dai suoi contundi, nella trama di contenti, i sentimenti e idee degli italiani, in quegli anni drammatici e scopogenti. Il libro quindi da un atto delinea masaca di un cerco familiare, dimiso tra l'albero agnodico del paese d'origine, sia la monacesca agli piedi della Maiella, e lo stralicamento in copi lontani, che da uno status piccoli possidenti di poderi, via via sempre meno leggerizi, si trasforma in una via puma, la miglia borghese di professionisti. Dall'altro è sante, schizza l'affresco di un paese abilaniato e man mano contraposto di lotte ideologiche, con itali differenti, da loro a estranei e sino stupiti l'una all'altra. I due fratelli, lì di Francesco e Modestà di Serra Monacesca, e imprenditore straattestroso ma non fortunato, vivono negli anni della grande depressione del 1929 un'adolescenza economicamente difficile, solitaria, allarga, che ripone dinanzi alla necessità di conciliare studi e lavori. Di formazione cattolica rivelano subito un interesse profondo per gli studi, io compresi che lo studio dovrebbe avere per noi una grande importanza, scrive Antonio Nerviari, da autodidatti consapevoli che l'elevazione culturale è un mezzo di riscatto sociale, di lotta per combattere la povertà. La loro formazione, si legge nel libro, è una corsa a ostacoli, una cincana di scuole per corrispondenza, di corsi regolari, di esami d'ambipatista, di campi, di istituti operai, professionali e normali. Armando è naturale per educatore, ha la teologia dell'I.na. A 16 anni è maestro, un anno dopo fu per l'esame di storia della filosofia con Vito de Lugero, il suo progetto è quello di formare insegnanti per la nazione e per l'impero. A differenza del fratello più grande, rimane legato al volgo, a Dio, l'impiaggio e il tempo che dice di quanto la famiglia conosceva tecnici e giadezza, averisce a fascismo con pienezze di convinzioni e la sua costante ideologica non si disposta dai valori tradizionali del nazionalismo cartolico. Antonio non è da meno il quadro a una città intellettuale, ma la sua personalità è più forte, improntata al pragmatismo utile e proteso verso la proscienza degli uomini della vita reale. Non ha nostalgie ma sovignanti del passato reale, anzi avverte lucidamente che la civiltà contadina è agonizzante e il futuro di antico ha solo il cuore. La profondità verso la tecnica, lo spinge verso altri studi, a pieni voti conquista la maturità scientifica, eccellente in matematica, insegnerà balistica alla scuola della giugneria, ma è anche lettore di romanzi ed è dettato dalla poesia. Il libro ricorda alcune sue prove diverse. Precoce nel rapporto con il mondo del lavoro, vince una corsa di studio a chi frequenta una scuola per operari ed elettricisti. Le sue lettere sono piene di camere in attrito e argomentiche tra teoria e prezzo fisso. La condizione disanguitice di disanghi dei fratelli, descritta da un autore con sopio, espos, epos, familiare, evoca faccine della partinetta di London e di una boccata d'ossigeno biota. Mentre la Grande Guerra ha registrato una sterminata letteratura dell'intervento, il nido della Grande Guerra, cui non si sono sottratti la gran parte degli scrittori e artisti studiosi che vi hanno partecipato. La Seconda Guerra Mondiale a Boston ha prodotto un altro genere di testimonianze di varia natura. Diari, carteggi, memorie, romanzi autobiografici, saggi, vittagini, appunti di prigione, manuali di sopravvivenza. In Italia scissa in due parti, ad un tempo amica del nemico e nemica dell'amico, secondo le parole del turista Salvatore Salta e il De Produtis, scritto nel suo rifugio nella bassa divana, analizzò con prudenza la morte della patria. Di italiani divisi tra l'adesione alla Repubblica Sociale e la fedeltà la monafia, è esistita di gran lunga, più ampia e articolata la cosiddetta zona grigia, espressione usata per la prima volta da primoderni soffersi e salvati, di chi ha subito passivamente gli eventi tragici della storia, scegliendo il silenzio, l'attendismo, la nottata gara passata, la casa in collina, per usare il titolo di un romanzo di Cesare Pavese, che mi descrive la continente, la condizione psicologica, chi se ne sta da parte. Brutta cosa, essa di tecniche della storia, scrive. In un recente libro, Spettatori di Montaglio, Raffaele Lucci ha disegnato una impressionante la pancia della parete, o per dirla, la pancia della parete, cioè l'enorme credito in cui affantarsi, perché nulla di quanto accade all'esterno più riguarda, una condizione che non è la morte, è l'incognito di preoccupabile e insuperabile stato della irresponsabilità. In un recente libro, Spettatori di Montaglio, Raffaele Lucci ha disegnato una impressionante mappa degli intellettuali, che di fronte alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale, osservando da lontano il naufragio dell'Italia con un brimido di dolore e di compiacimento. Si pensi al grande giurista Tiro Abramandrei, uno dei pali della Costituzione, che nell'ottobre 43 si rifugiò per nove mesi a Corcello Umbro, il larvato esilio, lontano dalla guerra e dai partigiani, scontranno su un esilio franco che si era volato negli ultimi azioni partigiane di Umbro, e scriverà il filosofo Giuseppe Rez, del marzo 45. Alla fine della storia, quando la terra uniterà contro una cometa o si spenderà nel gelo, non c'è che il vuoto, e quando arriverà a quel vuoto, che senso avrà avuto la storia dell'uomo? Ma nei suoi ultimi anni, Caramandrei diventerà il cantore più proletico della Resistenza, con testi, discorsi, immigrati, commemorazioni della lotta partigiana in piazze e teatri conveni. Forse, come ha scritto Sergio Ruzzatto, per un acuto senso di colpa, per non avere a suo tempo saputo preschiarlo davvero il suo posto di combattente partigiano. La sua ricetta era quella di Enzo Croceva, un giornalista corto e studioso di storia, che nel 1943-1944, nella Roma occupata da Gillespie, postò in un convento. Dopo trent'anni scriverà Resistenza in convento, che uscirà a posto nel 1999, in cui le evocherà una Roma che è venuta a un posto ideale per autosegregarsi, all'ombra del Vaticano, con i novelli colleghi seminari in cui si vittavano generali, aristocratici, industriali, docenti universitari, scrittori ebrei e antifascisti di Rome, Alcide de Gasperi, Bonon, Pietro Menzi, Saraga, Beucio Marini, Alessandro Casardi e Marcello Torelli. Forcella aggiunge che quella non era una cura, né una resa valutata, perché in cui ogni volta che uscirono rischiavano l'arresto, la deportazione, la morte, ma fa risaltare ad esempio che l'antimericale Neuvi si nascondeva in un corvento sotto abita dal Talari, mentre tanti anonimi compagni rimanevano in variettello. Ma furono tanti artisti che si dedicarono alla contemplazione del Neufragio. Da Corrado Alvaro si si nascose a piedi. Da Mario Soldati, l'euro-olganesi Gabriele Baldini, e Stefano Pazzina che scelsero quanti a greve per vendersi in sabbia. A Tommaso Valdò, che è viviato nel suo manilo di politica. Al nostro italiano, infrattato nella terza saretta del caffè greco, a inalellare con l'italiano trancati e di pezzino tavarico, molti di spirito contro il fascismo. Ma che attese la fine dell'Egipe, un sognano per il calastrale in cui critica il fascismo, come Carlo Emilio Garda, che soltanto nel Cinquanta scrisse Ero Serpiano, un violento pallone contro il cruce che negli anni del fascismo aveva quasi idolatrato. Dei due fratelli mancini, Armando era fascista e forse dopo la terribile prova degli utabini, scrive in una lettera alla sorella, non lo è più, ma la sua fede alla patria rimane in parte. Antonio non ha ospita verso il fascismo, riconosce meriti e capacità di Mussolini, ma non ne fa nulla, è critico verso il corporativismo e stati meglio evoli, giudica, ma confonata la campagna del grano, non vibra gli slanci plenici verso la guerra, ma la trova ingiusta, capace di risolvere i problemi dei popoli. A quale Italia apparteneva Antonio Maggi? Se si prende per barico lo schema delle tre Itali e dello storico Gianni Lugano, che le divide di quella dei vinti, quella dei vincitori e quella di tutti gli altri, tra l'Italia che ancora salò, l'altra che scelse la resistenza, e quella di mezzo, l'Italia della zona grigia, del disimpegno civile, della riserzione da compiti e responsabilità istituzionalmente, l'istere individuo, in quale catalogare l'Italia di Antonio Maggi? Già vinto nel cuore, ma civilmente non dimissionare. Una quarta Italia in cui parole come comunismo o comunismo, dunque a ciclismo, appartiene differenze, non si conoscono, e il colore dominante non era giusto. Testimoni disperati, così definisce con immagini azzeccate e il professor Lorenzo Ornaghi, è un ministro dei beni culturali. E certamente originale è la proposta di Francesco Magini di rileggere quegli anni difficili per generazioni di italiani, fornendo utili istruzioni per l'uso, sia per chi ricorda un passato con cui non sono stati fatti conti e che rimangono aperti con memorie non condivise, sia per giovani che guardano con timore a un futuro poco incoraggiato. Le ragioni sono noti, conosciuti, non hanno bisogno di presentazioni, sono quasi tutti politici e storici, quindi darei prima una parola a Nicio di Piazza, che è storico della Pescara, anche se non la Pescara ha detto un po' guai, se non guai è più finito. Bene, buonasera a tutti, sono felice di essere questa sera a partecipare a questo incontro sul libro di Becco Magini, per varie ragioni. Innanzitutto il primo motivo è che l'Istituto Spatale, il Presidente di Puglia di Scienze, ha organizzato una serie di incontri, questo è il secondo, dal tema legge dell'attruzzo, è 15 giorni da circa, ci siamo proprio confrontati che è un'attruzzo, che è un'attruzione di scienze, anche Luciano D'Alfonso, che mi fa piacere ritrovare questa sera a riflettere su un personaggio più importante nella storia della nostra città. io solitamente ho coordinato questi incontri, ma quando Checco Mancini mi ha detto che c'era l'altro, ho detto, ma presi l'idea ordina d'Alfonso, non ho problemi. E quindi mi limiterò a fare l'intervento che mi è stato chiesto. Questo libro di Checco Mancini lo ritengo di grande importanza, perché al di là del fatto di riportare lettere dei fratelli è sicuramente da stimolo per riflettere sulla situazione del nostro paese durante gli ultimi anni della guerra e soprattutto nel dopoguerra. Checco Mancini ci ha stimolato molto con questo libro. Ci ha stimolato molto perché si sta facendo di percorrere e così la strada si sta portando alla memoria un personaggio, Antonio Mancini, che è stato di grande importanza per la nostra città, per la nostra regione. Primo segretario provinciale della democrazia cristiana nel 46, primo sindaco democrazia nel 56. E dico che Antonio Mancini ha avuto la possibilità di vivere la politica, esponente alla democrazia iniziana prima, amministratore dopo e poi successivamente anche parlamentare, caro Ugo ci stavo riflettendo, ha avuto la bontà di assistere e di vivere l'esperienza della ricostruzione e il momento del rilancio della nostra realtà. Lui ha vissuto tutti e due in questi momenti. Primo momento quello della ricostruzione ha vissuto da dirigente di partito, dal segretario provinciale della democrazia cristiana. E poi c'è questa grande azione, l'azione prorompente che ha determinato l'inizio dello sviluppo della Pescara, della Pescara moderna, dopo la ricostruzione. Una Pescara che poi negli anni 70, avrebbe visto in una serie di interventi infrastrutturali il proprio sviluppo, il proprio progresso e quelle infrastrutture di cui abbiamo parlato, ricordo con Luciano proprio 15 giorni fa, abbiamo parlato 15 giorni fa di incontro a cui è intervenuto anche l'onorevole Giuseppe Quietti che non parlato pubblico di politica da 18 anni, se non ricordo male. In quel momento con Antonio Mancini, sindaco di Pescara, prima e poi parlamentare, con una classe politica di democristiani che riusciva ad avere il conforto e il confronto con tutte le realtà laiche e anche civiche che c'erano nella nostra realtà, quella classe politica, la classe dirigente riuscì a porre le parti del nostro gruppo di Pescara. Vedete, il progetto della stazione nasce agli anni 60 quando Aspataro era ministro dei trasporti. Erano gli anni in cui c'erano poi anche altri sindaci democristiani, poi ci fu il sindaco Magliato, di Gabriele, figlio che saluto. C'è, ci fu tutta una classe politica di dirigenti e una classe di dirigenti della politica locale di democristiani, come ho detto prima, ma anche di Aici che riuscivano a porre le basi per questo punto. Perché leggere queste pagine della politica del passato? Perché noi, che lo vogliamo sottolineare, c'è una grande differenza sul modo di concepire la scelta, perché il problema è la scelta e la completizzazione poi della scelta. La scelta nella cosiddetta Prima Repubblica è la scelta in questo ventennio. Stiamo facendo queste riflessioni proprio per questo motivo. Vedete, nella cosiddetta Prima Repubblica la scelta era un momento mediato tra le esigenze del territorio e una classe politica che riusciva a leggere il territorio, riusciva a capire le esigenze del territorio e poi, questa classe politica aveva la capacità di trasformare quelle scelte in opere concrete. Vedete, proviamo a pensare tra gli anni sessanta, settanta, fino agli anni ottanta le cose fatte e realizzate in questa regione e pensiamo a questo ventennio. La politica della, la politica infrastrutturale di aria, autostrade, circondazione, le università, la grande sfida, la grande sfida dell'università che è stata una grande una grande battaglia voluta proprio da alcuni esponenti della democrazia e poi, l'aeroporto, il porto turistico, l'ospedale, tutte le infrastrutture che hanno determinato nel bene o nel male perché poi, chiaramente, qualcuno avrà da ridire sull'intervento impattante dell'assa attrezzata. Non lo metto in dubbio. Con il senso di voi chiaramente si possono fare tante tante riflessioni e tanti ragionamenti. c'era una classe politica che produceva idee e compieva scelte ed era il plato di realizzare e completizzare queste scelte. Proviamo ad immaginare una regione senza questi interventi e così siamo alla regione di questi ultimi venti anni. Proviamo a pensare in questi ultimi venti anni quale infrastruttura è stata realizzata nella città di Pescara. un'infrastruttura che abbia magari la possibilità di determinare uno sviluppo, una crescita, un movimento. Non vedo questa capacità. Allora, il discorso qual è? Ma quei partiti della Prima Repubblica erano veramente dei soggetti da accettare così velocemente dopo la svolta del 1993 o forse questo sistema elettorale che ha determinato questo sistema politico è da rivedere perché evidentemente determina una classe dirigente di tante individualità. E noi oggi abbiamo nelle istituzioni tante individualità. Ecco, questo è il dramma è il problema e queste individualità non sono i drammi di legge del territorio bisogno necessario del territorio e non sono in grado anche se avessero come dire le idee non sono in grado di determinare queste scelte poi in opere complete. Ecco perché è importante leggere leggere queste pagine di una storia come diceva giustamente D'Angelo che io mi sto adesso come dire orientato nella lettura del novecento della nostra città o meglio con la ripostruzione della storia sono giunto fino all'inizio anni 30. adesso cercheremo di fare anche il resto ed è chiaro che questi incontri queste pagine scritte come in questo libro di Francesco Mancini sono veramente di grande interesse e sollecitano la riflessione una riflessione come dicevo per capire come si si faceva come si svolgevano quali erano le dinamiche politiche della prima repubblica quali sono le dinamiche politiche in questa seconda repubblica perché oggi abbiamo delle situazioni di crisi così evidenti ecco con Luciano su queste cose su questi argomenti ci sono molte volte confrontati quando negli anni 80 militevamo insieme nel momento della democrazia cristiana abbiamo fatto molte riflessioni sull'area di comunità mi ricordo un incontro forse il 79 appunto i primi anni un tanto qualche anno dopo la morte di Aldo Moro un convegno al volto santo di Manopello con Giovanni Galloni un convegno di una importanza perché parlavo di Aldo Moro che era morto era stato ucciso da due o tre anni adesso non mi ricordo l'anno esatto non ricordo però fu un incontro c'era anche un incontro fu un incontro di grandissimo spessore perché fu l'occasione per parlare in quel contesto non tanto su questi argomenti non gli argomenti che riguardano la politica del territorio la gestione l'intervento ma i grandi temi della politica Aldo Moro molto attento e sensibile al superamento di barriere a volte eccessivamente rigide barriere biologiche a volte eccessivamente rigide che poi determinano il non governo questo è importante e forse il governo che sta operando oggi per noi può essere che sta operando oggi può essere sicuramente un elemento di lettura dell'esigenza di superare queste situazioni di rigide ideologico io vado oggi perché sono anche altri amici che devono parlare però voglio sottolineare e voglio ringraziare Pecco Mancini che ci ha offerto l'opportunità adesso questo libro di rileggere veramente pagine di storia molto importanti voglio anche sottolineare un altro aspetto qualche mese fa come Presidente del Consiglio ho avuto modo di presentare questo libro però diciamo con un taglio più di carattere istituzionale questa sera invece chiamo come un taglio più politico grazie 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 per essere stato più forte chiamato con la parola ai due crescensi che è un pezzo di storia amministrativa e legislativa della del abuso del dopoguerra grazie grazie io provo a parlare provatirvi qualche cosa che in termini molto brevi anche se il tema che è stato fissato per questo mio intervento è un tema semplice Antonio Mancini democratico Antonio Mancini cristiano e sono due accettivazioni assai altre a esaminarle e che posso come posso io giudicare sulla democrazia sulla cristianità sulla cristianità non si può misurare dall'esterno però di Antonio Mancini possiamo dire una cosa che ci ha affascinato nel rileggere le sue lettere le sue lettere giovani l'amore per la sua fidanzata poi per sua moglie è così intenso è così alto è così cristianamente legato alla concezione di famiglia di famiglia e non solo di giovinezza che si incontri ma di progetto di vita che io penso sia l'elemento per dire sì Antonio Mancini è un cristiano perché si è incontrato con una ragazza che del cristianesimo aveva una concezione antica io adesso l'ho confessato prima sono il più inadatto a entrare in questo difficile argomento però ricordo un insegnamento quasi tale che occorre la fede ma occorrono anche le opere per definire un cristiano le opere oltre che la fede ne aveva questa ragazza Dina Mancini perché andava ad assistere con le associazioni cristiane i poveri della città di Venezia andava a portare consolazione ai malati e andava a portare il pane a chi non lo aveva e questo è fatto anche poi nell'età ad onda perché Dina Mancini è stata presidente provinciale dell'associazione San Vincenzo che aveva appunto questa vocazione assistenziale in quella famiglia allora dalle lettere si vede che Antonio Mancini un ragazzo meritooso un ragazzo che ha fatto l'operario e poi non era specializzato e poi ha studiato poi si è laureato e ha fatto la preghiera militare e ha fatto la vita amministrativa molto intensamente ecco è colpito anche da questa donna e quella ragazza che sarà sua e io credo che questo approccio alla fede vissuta vada a riamare e a valorizzare quello che sta nel DNA di tutti noi ed anche quello di Antonio Mancini la religiosità istintiva non ragionale millenaria dire delle popolazioni del corso quella che romana ancora oggi dalla chiesa di San Imperatore vicino a Sera con la cesta ma dell'uomo politico la cristianità consiste anche nelle opere che ha fatto quando ha preso responsabilità nella vita amministrativa io non mi voglio divulgare però devo leggere una cosa che deve incoraggiare i futuri politici a riprendere un discorso basilare ma ma il cristiano può tollerare che ci siano fratelli senza un detto sotto il quale formare una famiglia io credo di ricordo ricordo la prima in un breve intervento che ebbe quando eravamo ragazzi e disse la casa la casa è la famiglia perché voi sapete per le convinzioni cristiane c'è la persona poi c'è la famiglia e poi c'è la comunità dai vari livelli ma diceva la prima la famiglia non può esserci se non c'è la casa cose ovviamente mentali però ce le siamo dimenticate e bene e scala all'epoca in cui Mancini era impegnato politicamente poi il sindaco cresceva del 10 12 per cento all'anno che significava 5.000 6.000 6.000 persone 500 600 persone che venivano quasi quotidianamente e scala bassa da 35.000 abitanti a 70.000 in pochi anni ma da amministrazione comunale di cui fa parte Mancini io vi racconto il documento politico presentato per le elezioni le elezioni senza programmi concreti sono una truffa presentarsi senza esporre programmi concreti significa rubare il voto e allora i programmi seri per i partiti seri sono fatte di cose potenti ecco allora come si presenta una parte politica di cui Mancini è massimo esponente scusate ma sarò molto breve perché queste sono citazioni che concludono i miei interventi edilizia edilizia economica e popolare il comune ha provveduto all'acquisto di case parcheggio e risolvere il problema dei sensativi ha fatto i piani di zona complessivamente ha ultimato 2539 all'oggi in corso di realizzazione 627 in corso di localizzazione 1534 totale 4700 case popolari su una popolazione che da 35.000 abitanti cresce progressivamente fino a 75.000 queste citri corrispondono all'affluenza di popolazione pescata che si verifica anche a Torino anche a Roma ma mentre a Torino le case di rinchiera ospitano gli emigrati anche i nostri lavoratori in casa in alloggi indecenti ammassati come qualche volta vediamo oggi i miei che arrivano in Italia senza la doverosa programmazione mentre a Roma ci sono i baratti che ancora oggi perdono e sono state importate anche nella letteratura e nei film originale case di cartone fatte non vedere dove la gente vive per dieci per vent'anni a Pescara non c'è neppure una baratta per un momento a Pescara ci sono migliaia di case popolari che nascono in nuovi quartieri che nascono in una città satelite che ancora oggi è un modello di intervento massiccio di nuovi quartieri costruiti ecco allora quanto mi si è detto che parla di Antonio Mangini come il cristiano io dico la politica di Antonio Mangini è stata la politica di un po' cristiano un'altra cosa è parola crudo Antonio Mangini autodidatta da ragazzo per motivi economici va a fare l'operaio poi come abbiamo visto si specializza in recupero diventa un altro dirigente e poi da politica da persona molto colpita ebbene quando il sindaco di Pescara va a desidare alle scuole gran parte delle risorse comunali nascono in pochi anni scuole numericamente inconcepibili allora per una città di questa portata non meravigli ma tra scuole elementari e scuole medie disseminate nelle periferie noi possiamo elencare in un programma di il suo conto gli adorano 5 8 11 14 17 22 nuovi edifici scuole amici io qui vicino a me forse i giovani che io spero potranno impegnarsi per questa città però dopo di questo periodo è scaramuto per il lato in presenza ha fatto notevoli cose nel campo civile nel campo economico ma questa sensibilità per la crescita culturale di base delle popolazioni non c'è stata più bisogna che si ripetano e cari amici io comunque ricordando che oggi scusate attraversiamo uno dei momenti più più di della nostra storia e non appare abbastanza interiore quando parliamo di difficoltà monetarie quando parliamo di borsa quando parliamo di debiti da pagare e a cari amici e a cari amici perché li pagheranno la classe media e la classe povera del paese in modo più doloroso che non la classe ridica non moriamo in sufficiente evidenza quando la democrazia cristiana intorno ad Antonio Mancini già diceva con molta molta chiarezza obiettivo occupazione era l'amore pieno di gran parte della classe ridice gran parte la maggior parte della democrazia cristiana si gloriava giustamente di aver portato la bronzo dalla condizione di terra di pastori alla condizione di regione industrializzata la prima del mezzogiorno diceva era lo slogan eravamo tutti orgogliosi ma una voce ancora più profonda di che por merita la nostra gratitudine e terminazione perché ha portato l'industrializzazione in la croz aveva questo uomo con una ristretta parte politica di tutti i partiti comunque molto estremi che già vede avanti e sull'obiettivo occupazione diceva stiamo attenti non si vive solo di occupazione industriale e si parlava allora ecco il titolo camici bianchi e tute blu si diceva l'occupazione non sta soltanto nella tuta blu di chi lavora nelle tute strano i camici bianchi di sviluppo del terziario del terziario avanzato e allora il nuovo gruppo di fronte a questa grande crisi che il paese attraversa ricordiamo ai uomini che 30 anni fa 40 anni fa hanno visto un anticipo che andava ad esaurirsi il modello industriale e la nostra crisi di oggi non è crisi di gestione è crisi di modello industriale e la nostra rinascita non sta nel ritrovare le fila di una terzializzazione competitiva ma sta anche soprattutto nel pane del nostro paese un paese di specializzati nel sistema terziario maternale allora e concludo veramente di Antonio Ricordiamo questo tentativo allora immediatamente infruttuoso ma oggi preziosamente presente nella nostra consistenza politico culturale ricordiamo l'obiettivo di uno sui obiettivi che ci deve portare lontano io di questo libro direi una massima che non è riduttiva la vecchia massima il fare un libro è meno che niente se il libro fatto non rifà la gente ecco il valore del libro il valore anche di questo nostro tentativo di farlo apprezzare non sta nel decantare il passato sta nel sollecitare forze nuove perché assumono nuovi impegni molti dei sindaci della pescara dopo guerra molti di essi non si ricordano nemmeno i nomi l'obbligo è inesimabile di quelli che si ricordano io farei una distinzione tra i vialetofoni e posto lannuziano o immaginifici vialetofoni erano quelli che non curavano la parola c'è un anelto famoso di uno di essi che a chi gli faceva osservare che i giornali erano pieni di critiche rispose che non gli importava nulla perché i suoi elettori non leggevano i giornali tra gli immaginifici e i postannuziani sia pure differenze inserirei appunto Antonio Magini perché Antonio Magini la mia esota ormai come direbbe l'annunzio all'agrafe mi consente di ricordare anche qualche suo discorso era non era un parlatore retorico ma era un parlatore aveva i suoi discorsi erano in concretezza con qualche richiamo letterario storico del resto una delle cose più interessanti nel libro di Francesco Magini è l'esplorazione che lui ha fatto della biblioteca del padre in cui si ritrovano letture insolite nel senso che testimoniano di un lato univoro come lettore del padre il quale leggeva non solo riviste come politica estera e c'è la civiltà cattolica ma anche una rivista che uscì per pochi numeri nel 46 mercurio su cui scrivevano Sione Moravia Giampo Sartre e i giovani camilleri che esotì proprio un racconto non solo ma ci sono anche c'è un opuscolo del catto comunista per Antonio Masi a Franco Rodano anche se Antonio Magini non fosse dotto dalla sirena di Trevini e c'è anche un volume grisale al 43 che parla della democrazia cristiana e i lavoratori che può testimoniare quasi un suo avvicinamento al partito democrazia un altro immaginifico è Luciano D'Alfonso che il quale ha amore della parola una parola a volte critica quasi una neolingua alla 1984 ma essendo lui ormai un esperto di culture e cività adriatiche io direi che questa sua lingua abbastanza screziata gli consente qualche diciamo amore estetizzante che in tempi in cui sembra che i politici parlino hanno la stessa lingua non guasta vi passo la parola io sono molto contento di poter dare un contributo a questa giornata per il lungo cammino che deve fare questo libro aderendo diciamo all'augurio alla qualità di uno scritto che poco fa delineava non volevole crescenze la fatica per uno scritto non è nel mettere in campo lo scritto ma nel fare in modo che venga riscontrato quasi riprodotto dalla collettività quindi sono contento di poter dare questo contributo perché perché parliamo di uno scritto che consente molta parte di quello che serve all'attuale diciamo democrazia territoriale della polso vedete non è fuori dalla realtà che ieri, oggi e domani pervengano alla responsabilità nuovi eletti in sala ci sono almeno un paio di candidati sindaci di un comune importante che è vicino a Pescara quindi è probabile che in questa città vicina a Pescara si conosca un cambiamento di segno e anche di nome di cognome per la guida della città di Montesilvano la difficoltà non è nell'assistere o nell'immaginare che si elegga questo o quello con l'idea del rinnovamento la difficoltà poi è nel determinare il fatto del rinnovamento la decisione del rinnovamento la qualità dell'attività istituzionale se non si organizza un po' di memoria di ciò che c'è stato io credo che saremo tutti errabbondi per non dire vagabondi si può essere vagabondi anche rispetto alle responsabilità istituzionali cioè non rintracciare mai il bandolo della matassa assistere passivamente alle pagine del calendario che scordono e poi quando uno vuole cercare di segnare che cosa si è combinato molte volte la risposta è nulla si è combinato e solo qualche volta può arrivare la giustificazione che c'è stata la crisi la condizione della difficoltà generale del contesto che ha determinato l'impossibilità per questo quel risultato con questo spirito io mi sono avvicinato al testo e anche all'invito di Francesco Mancini affinché potessi dare un contributo io credo che Antonio Mancini se ci fosse presente chi ha curato l'introduzione di questo testo Lorenzo Ornaghi Ornaghi oggi il Ministro Ornaghi ieri e per sempre l'ordinario di scienza della politica di Milano direbbe che Antonio Mancini è un amministratore moderno dove però caro Giacomo per moderno non si intende la frequentazione a questo a quel ristorante alla moda della città di Pescara perché ci è capitato anche di avere un pezzo di classe dirigente tutto all'insegna di questo tipo di modernismo della frequentazione di alcuni locali moderno nel caso di Antonio Mancini significherebbe quello che diceva Ornaghi a lezione che cos'è la modernità chiedeva lui e rispondeva e faceva rispondere agli studenti è moderno ciò che funziona chi si fa carico della modernità si fa carico della funzionalità di un sistema Mancini dunque è definibile amministratore moderno perché si è posta la domanda della funzionalità del territorio che a lui interessava e che lo riguardava in questi giorni si fa un grande consumo di impiostro su uno dei più importanti giornali letti a livello nazionale repete e ogni tanto sugli articoli di spalla di questo giornale quelli anche letti da coloro i quali sono complicati scrivono alcuni intellettuali tipo Boeri il quale cerca di insegnarci e cerca di educarci sul fronte di alcune coppie tematiche valoriali dice Boeri scrive Boeri molte volte la società evolve attraverso la cura delle relazioni e lui punta a demolire il valore della relazione perché la relazione non sempre coltiva il merito il contrario dell'elemento valoriale tematico della relazione è la regola è la regola rispettata che produce il merito e il merito consente della progressione giusta della società io sono d'accordo su tutti e due i corni del problema ne aggiungo uno i corni al fronte che accanto alla regola e alla relazione una società evolve quando c'è motivazione e io oggi sto conducendo anche una interlocuzione dialettica con qualcuno che è presente in sala che io ho in simpatia sul piano della sua attrezzatura culturale perché voglio dire ad alta voce scogliendo questa circostanza che le società evolvono quando ci sono motivazioni Antonio Mancini era una persona molto riguardata dalla motivazione e perché c'era questa motivazione? a me piacerebbe tanto che qualche studioso si occupasse di riscrivere anche la storia di questa regione a partire dal dove si sono determinate le motivazioni ci sarà una ragione per cui Silvio Spaventai di Bomba De Vincenzi di Notaresco l'altro bravo Panfilo Gentile di Castelviedi non voglio arrivare a citare Gaspari di Bomba ma Antonio Mancini di Saravona Cesca ci sarà una ragione per cui in queste piccole realtà poi si è scatenata una grande voglia di organizzazione della parità delle opportunità anche tra i terreni mi piacerebbe molto dirvi di Angeloni che di sicuro qualcuno dei presenti ha avuto modo di incrociare leggendo la storia di questa regione è quello al quale si deve molta parte delle ferruvie della regione un parlamentare della piccola provincia della provincia dell'Anna non della grande città dell'Anna perché io dico motivazione quando parlo dell'onorevole Mancini l'esperienza della guerra l'esperienza di quella guerra ha lasciato un segno straordinariamente direbbe Montanelli negativo e positivo nella vicenda di quella persona Montanelli ci ha lasciato detto che ogni popolo ha bisogno ogni tanto tempo di conoscere l'esperienza del dolore quasi che dal dolore poi si riorganizzano le ragioni per la ripresa Mancini di sicuro sia Mancini Antonio che a me piace qui contribuire a descrivere che il fratello Mancini l'altro che non ho potuto conoscere come invece ritengo di aver conosciuto anche per la raccolta delle opinioni di tante persone che lo hanno frequentato tipo mio padre ma anche tanti amici di partito che sono presenti in sala ai quali non ho mai fatto mancare le mie curiosità su questa straordinaria persona di cui voglio dire qualcosa in più rispetto a quello che è stato detto fino adesso vedete la guerra una guerra che come ha detto Ornaghi si sapeva che si concludeva così al di là diciamo dell'epopea dei rumori e delle feste di qualche luogo del nostro sistema paese ma si sapeva che non poteva che concludersi così e si scrive nel libro in questa memoria che fa Francesco Mancini quale è stato l'atteggiamento anche psicologico di Antonio Mancini anche quando tutto era finito sul piano militare e lui assumeva a sé l'onere di fare qualcos'altro in più tant'è che poi si scatena tutto l'impegno sociale l'impegno anche lavorativo e le sue grandi riflessioni le sue grandi riflessioni per esempio che cosa troviamo noi sul piano dei motivi ispiratori del suo impegno politico quella straordinaria coppia tematica della sua motivazione di concordia e concretezza usava dire e lo dice in una bellissima giornata congressuale tematica che si fa nel 1966 a Villa Immacolata il libro non fotografa questo luogo e neanche alcuni appunti correlati quel convegno si tenne a Villa Immacolata per iniziativa di Ugo Crescenzi parlò da segretario dei giovani dc Tino Di Sibio l'ospite d'eccezione era della porta l'argomento era il lancio della nuova della regione non della nuova regione sarebbe stata nuova per quanto riguardava la configurazione territoriale economica ma si trattava di insediarlo il sistema regione e c'era piccoli come ospite di eccezione quale fu l'intervento dell'onorevole Mancini un intervento molto coltivato dall'invito di Crescenzi Mancini ragionò in ordine alle necessità di quella regione che doveva compiere i primi passi a proposito di tre grandi emergenze l'emergenza infrastrutturale l'emergenza universitaria e l'emergenza della industrializzazione ognuna di queste emergenze era accompagnata da una straordinaria descrizione di temi che motivavano sul perché quelle erano le priorità erano le necessità insomma la politica che mette in campo lui è una politica nutrita straordinariamente dalla contezza delle priorità ed è qui che ci sta non solo l'amministratore moderno c'è il politico moderno perché lui coglie l'altezza del contenuto della politica che coincide con la qualità delle priorità la ragione della politica coincide nello stabilimento delle priorità e lui descrive la ragione delle priorità di quei tre grandi obiettivi l'industrializzazione per fare in modo che l'abruzzo non fosse più la culla dei numeri dell'immigrazione e l'immigrazione secondo lui è una grande questione dolorosa soprattutto per l'abruzzo poiché l'abruzzo si tiene al focolare alla moglie ai figli al suolo inteso come il suolo che poi fornisce l'ospitalità per la sepoltura dei nostri api se questo è come attaccamento di un popolo che non è un popolo che si scollega rispetto alla storia ma è un popolo che coltiva il legame con la storia l'immigrazione è una grande questione dolorosa per evitare per rivediare per contrastare questa piaga ecco che parte nel suo convincimento e nelle iniziative politiche che lui stabilisce la necessità della priorità dell'industrializzazione ma non si ferma qui consentitemi se si fosse fermato qui sarebbe stato il congiungimento tra Falconio e quel bravo amministratore di Sulmone che si chiama Bolino bravissimo lui va a olore e arriva a sagomare nei territori dell'abruzzo dove dovevano nascere i nuclei industriali e concepisce anche per la Vallata Vistina un sito per l'insediamento di un nucleo industriale la cura dei particolari la conoscenza dei dossier il non fastidio rispetto ai dossier che fa la qualità dell'amministratore nella provincia di Pescara i nuclei che ci sono più quello dell'area Vistina prefigurava lui rispetto al tema dell'industrializzazione c'era tutta la riflessione che ha detto Crescenzi quando per esempio Crescenzi mette in evidenza la questione della formazione serve a fare sì che non si forniscano soltanto le braccia per il lavoro crudo immateriale ma che l'abruzzo dia anche luogo ad una capacità di formazione di bravura di lavoro che sia in alto nell'albero sociale in alto ed è qui la ragione dell'attivazione di strutture universitarie mettiamo anche in evidenza la contrapposizione che ci fu in quegli anni rispetto all'insediamento delle nostre università abruzzesi perché si affermava che in Abruzzo l'autonomia universitaria sarebbe stata la produzione di semi analfabeti o di semi laureati non c'era una comunità di visione convergente sul tema dell'università da stabilire ed insediare la terza grande questione per la quale lui si è battuto è quella della infrastrutturazione che facilitasse la categoria della velocità i fatti devono accadere velocemente da quelli economici a quelli delle persone facciamo in modo che l'Abruzzo venga riguardato dalle autostrade dall'infrastruttura ferroviaria dall'infrastruttura portuale lui pone già da allora il tema dei 500.000 delle 500.000 tonnellate di funzionalità del porto di Pescara per avere a cascata tutte le misure nazionali di manutenzione di gestione della nostra portualità vedete la cura dei particolari documentali quella cura dei particolari documentali che fa dire ad uno come Andrea che la terra nella quale lui si impegnava politicamente era migliore delle altre perché lì si coltivavano i dati i dati numerici grazie ai quali si faceva anche della valutazione degli effetti delle politiche e Mancini è questo fa un comizio straordinario nel 1958 a Pescara credo che fosse maggio del 58 in cui il comizio non è una dichiarazione di guerra agli avversari questo lo dico ai giovani che si accingono a stabilire una impegnativa campagna elettorale in questa città vicina che a noi sta a cuore che è Montesittà non era una sagra di cattivelle nei confronti degli avversari il suo comizio era una dichiarazione programmatica contro i problemi della città a favore della vita collettiva della città di Pescara ed erano presenti politici di primo piano della città ai quali spalmava impegni dicendo che le elezioni non servono per fare le liste le elezioni sono formidabili occasioni per assumere impegni e mantenere e lui dialogava col popolo di Pescara al quale configurava una esistenza quasi eghediana tu popolo di Pescara fa da garante rispetto a questi impegni che io e i parlamentari eletti assumiamo a tua difesa per le tue ragioni straordinario quel modo di argomentare rendeva rintracciabile gli obiettivi degli impegni anche delle promesse perché non è vero che la politica di qualità o segnata dalla moralità è lontana dalle promesse fatto quello la politica di qualità è animata e nutrita dagli impegni che si assumono e che si mantengono e lui in questo formidabile che dice il 58 elenca la grande conquista dell'acqua per Pescara perché lui ha ereditato una città tutta in costruzione nella quale c'era anche l'emergenza dell'acqua dopo il tema dell'acqua la copertura per i fossi parte mi viene quasi da sorridere perché l'assessore Mancini figlio dell'onorevole Mancini è stato mio assessore in giunta e mi ricordo oggi ho capito perché aveva tutta quella attenzione per i fossi parte perché era il portato di quella straordinaria stagione che vennero coperti in quegli anni così come tutti gli edifici scolastici il primo palazzo di giustizia il consorzio ottofruttico le prime cure e premure per il dossier dell'autostrada e guardate mi verrebbe quasi da dire ma lo dovrò dire in un'altra aula quindi qui non lo posso dire però mi sono alimentato con una cosa che ho capito con la lettura di questo testo e degli elementi connessi l'onorevole Mancini da sindaco di Pescara si fa carico di condurre una battaglia prima da solo e poi con altri per fare in modo che l'Abruzzo e quindi anche Pescara si avvalesse l'Abruzzo e con Pescara si avvalessero della funzionalità di un sistema autostradale da presidente di un comitato spontaneo di amministrazioni locali curò tutta la trattativa con l'ANAS e con le altre articolazioni istituzionali naturalmente fu una battaglia che venne portata avanti a più mani a più occhi a più pollici ma lui da sindaco non fece mancare il suo protagonista nonostante che sulla lettera il sindaco di Pescara nulla ci potesse entrare nella pratica del dossier autostradale per dire come assumeva l'iniziativa io mi ricordo una bellissima espressione dell'onorevole Moro quando un giovane gli chiedeva a Benevento ma insomma il politico chi è? lui rispose secondo me con la più bella delle risposte possibili proprio che esauriscono la portata tematica della domanda chi è il politico? un iniziatore di iniziativa uno che inizia la concepisce la inizia l'iniziativa e la porta anche a termine fino a determinare poi l'esplosività di un'opportunità e sul tema autostradale lui non si colloca secondo a nessuno nella battaglia con D'Angelo Sante per esempio che aveva un'altra idea di sedime autostradale lui sta lì a cercare di aiutare il presidente della provincia affinché capisse che quello era il sedime più giusto la risposta non è di mia competenza la dà il segretario generale la dà il dirigente non la dà il sindaco di una città che ha voglia di mettere le ali alla sua città se fosse stato questo l'elemento della cifra dell'attività decisionale di Mancini l'avrebbe fatto anche il direttore della stanza che ha portato le funzioni proprie del comune del vertice del comune di Pescara tutta la partita riguardante per esempio la sistemazione ferroviaria di Pescara evoca, richiede, convoca il potere della città di Pescara ma non limitantesi in questa torre campanaria convoca ed evoca la capacità rappresentativa politica di tutta la comunità tant'è che lui andava finendo a parlare con il direttore della Banca d'Italia per fare circuito per fare qualità della rappresentanza politica allora perché è importante ragionare di questo libro e soprattutto della figura di Mancini perché lui concepisce l'idea della città regione l'alleanza con chi? le premure coltivate insieme al comune di Sulmona e alla vallata che poi si conclude con la zona della Marsica tre poli di ausilio per le sue grandi battaglie il comune di Chiedi, Sulmona e la Marsica per incassare le grandi battaglie che riguardavano Pescara ma non solo quella della sede della regione Abruzzo che allora era una battaglia simbolica soprattutto l'attestazione di città dei servizi per tutta la regione questa attestazione che stava scritta nella storia vocazionale di questa città la logica di procedere insieme con la concordia quei valori anche espressivi sul piano del suo intervento al convegno del 66 quando lui dice che le categorie della programmazione economica dovevano seguire i binari della concordia e della concretezza della convergenza e della concretezza gli hanno permesso di produrre cinque anni di decisioni che hanno avuto il valore di venti anni di decisione perché in quegli anni lì si è prodotto un sistema di accomodamenti di potenziamento, di aggiustamento che ha la falcata dei venti anni vedete e mi avvio alla conclusione di questo mio accalorato intervento perché ritengo che dovrebbero tutti tutti quelli che vogliono occuparsi di cosa pubblica indagare e sindacare qual è stata questa straordinaria esperienza che noi abbiamo alle spalle nell'attività decisionale ci sono state stagioni formidabili alla regione Abruzzo stagioni formidabili alla guida di questo comune io vado sostenendo da tempo caro Ugo salvo qualche sforzo particolare che è stato segnato per esempio anche da un contributo culturale di una realtà associativa che ti vedeva impegnato non mi ricordo come si chiama ma so che in un periodo tu, Mattucci e qualche altra persona di buona volontà mi siete messi a capo di una iniziativa che si poneva il tema di rianimare la forza decisionale della regione Abruzzo io pongo un problema alla comunità abruzzese cogliendo questa occasione che l'Abruzzo non ha mai potuto contare con adeguata lunghezza temporale di una stagione adeguata di regionalismo il regionalismo che si è conosciuto per esempio in Lombardia prima con Bassetti e poi con i primi due mandati di Formigoni il regionalismo che si è conosciuto in tutta quella formidabile realtà territoriale che è l'Emilia la Toscana le Marche anche se aggiungo che in quelle terre era abbastanza facile organizzare un'attività di decisione di qualità quasi perché il Signore le ha fatte più forti più resistenti meglio dotate e strutturate il regionalismo come cerco adesso di delinearlo come atteggiamento della cultura politica di una comunità che coglie tutti i poteri di un assetto tutte le risorse normative di un assetto e le utilizza fino in fondo ecco io questo rileggendo anche storicamente non l'ho trovato salvo alcune brevi stagioni stagioni durate troppo poco perché c'era l'instabilità politica allora se si fa la domanda a Crescenzi quanto è durata la sua presidenza probabilmente la risposta si contiene all'interno di poco tempo o di poca numerazione temporale oggi la legge ci consente la stabilità quella che si chiamerebbe governabilità che molte volte poi si risolve nel poco che si fa pur avendo la durevolezza del tempo di permanenza il regionalismo cui guardo io è il regionalismo che per esempio nella stagione formidabile dell'inizio quando c'è stato De Cecco di cui mi hanno parlato quelli che prima di me hanno fatto politica dentro questa amministrazione sul suolo di questa città dentro anche ambienti di partito che è stato il mio come la democrazia cristiana ma anche il partito socialista ecco io credo che ci sia stato un limite nel produrre una visione di programmazione economica concepita insieme alla consapevolezza dei grandi poteri di cui dispone il livello di governo della legge se io fossi stato Gaspari in quegli anni mi sarebbe piaciuto incoraggiare l'arrivo di uno come Crescenzi in Parlamento prima Crescenzi ha fatto il parlamentare ad età avanzata ed è arrivato fino alla commissione esteri della Camera dico bene onorevole noi abbiamo avuto un'altra figura straordinaria per quanto riguarda la vedutezza l'attrezzatura la capacità che anche ha messo in campo l'onorevole l'onorevole Mancini che secondo me sarebbe stato perfetto nell'organizzare una sua calata o una sua salita seconda se a parlare passera o profumo per passera è una calata per profumo è una salita per esempio la guida della regione sarebbe stato formidabile immaginare questo incrocio possibile di aquiloni a favore di questa regione c'è stata la stagione di Peppino Chiedi che secondo me poteva fare benissimo anche in uno sforzo di governo di vertice della regione però altrove in Abruzzo si è stabilito che le sorti di queste risorse personali seguissero altri camminamenti io mi sono sempre posto il tema del perché non si sono allineate bravure e assunzioni di responsabilità istituzionali secondo anche le caratteristiche individuali la prima legge di programmazione degna di questo nome in Abruzzo si fa nel 1988 per iniziativa di Emilio Mattucci poi è la legge che determina quella imprecisione gestionale che nel 91 genera quella realtà rilevante per il diritto penale che fu l'abuso di cui alla denuncia dell'ingegnere di Atenita se si esclude quella iniziativa di Emilio Mattucci noi arriviamo ad oggi ad una nuova legge regionale per la programmazione perché dico questo durante un convegno che riguarda Antonio Maggi perché lui capì per intero la forza della portata in una cultura programmatoria per fare in modo che le risorse di questa regione non si disperdessero lui poneva il tema per esempio dell'università ma immediatamente si poneva il tema di chi mettere pacificato affinché dicesse di sì per la sede rettorale per avere poi la scornevolezza del cammino del consorzio industriale e l'attrezzatura anche per la nostra esigenza aeroportuale questa è una missione programmatoria che consente allocazione di risorse attenzioni adeguate normative e obiettivi strategici che devono riguardare tutto un popolo in cammino io la leggo così questa bella avventura personale politica che si è conclusa per ragioni legate della politica perché poi come dice e scrive il solito Ornani la politica è fatta dalla città che è la polis ma anche dalla guerra che è polemos la politica è fatta sia dalla cura per la città ma anche dalla guerra delle persone che hanno un'altra idea di difesa dei confini della città probabilmente Mancini poi ha dovuto lasciare il passo perché le vicende classiche della lotta politica hanno determinato il suo superamento quello che è certo è che non può essere considerata superata la sua straordinaria testimonianza di valore nell'esercizio dell'attività decisionale lo dico ai giovani presenti a quelli che vogliono fare politica domani e dopodomani io non credo che oggi ci sia un'abbondanza di riferimento per quanto riguarda la contezza di ciò che serve se fosse così non avremmo non avremmo perso due anni all'Aquila per togliere le macerie se fosse così non avremmo perso due anni all'Aquila per avere una legge straordinaria per il trattamento di una vicenda straordinaria qual è stata il terremoto all'Aquila guardate l'onorevole Romano Provi ha insediato un portavoce della presidenza di Bruxelles che è il figlio di un bravo sindaco di un comunello dell'Aquila io un giorno ho incontrato il portavoce di Barroso che è questo ragazzo figlio di un sindaco dell'Aquila gli ho detto ma che si dice a Bruxelles di questa vicenda bruzzese che andava posta per prima la questione dell'adeguamento degli strumenti straordinari per aiutare la ripresa dell'Aquila all'Aquila c'è stato un difetto di rappresentanza politica complessiva nonostante la ginnastica che c'è stata dell'arrivo di politici di livello internazionale e nazionale ma si è sbagliata la misura della prematura quando ci voleva quella cosa in più non c'è stata non c'è stata per la nettezza della mancanza della richiesta noi potevamo probabilmente richiedere anche per allora un reinserimento in una zona giuridica delle politiche europee che assomigliasse all'obiettivo questo sarebbe stato possibile se ci fosse stata una visione unificante convergente se ci fosse stata l'idea della politica come ce l'aveva lui che significava per ogni battaglia di valore che io vi aiuto a cogliere incomodare e scomodare tutti quelli che fanno parte della filiera della democrazia ogni volta per lui era un appello a parlamentari ministri sottosegretari non una volta si trovano testi che richiamano il coinvolgimento di Gaspari e Spatà insieme e dei parlamentari anche delle altre province questo sforzo di convergenza e la qualità della rappresentanza quella che secondo me è mancata per dichiarare guerra al problema dell'acqua quella che è mancata anche per fare in modo che il porto di Pescara non conoscesse tutte queste perinte ma stiamo scherzando ma stiamo scherzando quello che è stato raccontato qui la qualificazione giuridica di un cascane da terremoto è una qualificazione giuridica che da un atto normativo e dove sta il problema per dequalificare la complessità di quella procedura rimuovere le macerie richiede un certo tipo di procedura cioè una qualificazione giuridica di quella procedura ci sono stati due anni formidabili nei quali la qualsiasi cosa chiedeva gli veniva dato a condizione però che si poteva chiedere con nettezza con consapevolezza e senza inutili rumorosità senza la tossicodipendenza della dipendenza dall'alto dalle pagine dell'onorevole Mancini ma mica emerge lo segno rispetto ai livelli ulteriori che stavano in alto emerge la competizione il dialogo competitivo si chiama questo non significa irriguardosità nel legame politico nel vincolo politico o guardate che questa è la vicenda della democrazia e la vicenda della rappresentanza politica io poiché so quanto problema crea questa emergenza quanto dolore sta spalmando organizzo nella maniera più forte possibile la rappresentanza e questa è la ragione per cui i cittadini cedono quote di sovranità e delegano alcuni a fare a realizzare ecco perché io mi permetto di dire è molto di più quello che stiamo facendo di un riguardo ad un cognome che è trascorso e molto di più del riguardo alla famiglia Mancini che ha la stessa meritorietà del padre io penso che sia si direbbe in sociologia una istituzione la sottolineatura del valore di questa esperienza è una istituzione è un'infrastruttura perché si tratta di riprecisare come si fa cosa e concludo la differenza rispetto al periodo di Crescenzi Presidente di De Cecco Presidente anche di Mattucci Presidente col tempo che viviamo e che oggi c'è un'abbondanza di strumenti normativi che fa impressione si sono ristrette le risorse finanziarie ma sono smisurate le risorse normative le quali per essere utilizzate hanno bisogno di idee e di motivazione non è vero che il trono conseguito è di per sé un risultato il trono è una funzione è l'idea della funzione che è venuta meno della funzione io non la voglio colorare come farebbe Dito Boe è venuta meno l'idea della funzione della rappresentanza molte cartelle sono vuote i programmi li fanno le tipografie c'è bisogno di avere ampia dutezza e contezza di ciò che manca la realtà è come se fosse piena di buchi e c'è bisogno di riempire quei buchi per organizzare i diritti per fare in modo che però questo accada c'è bisogno di qualità della rappresentanza politica e poi si genera la qualità della decisione Mancini questo ce lo ha dato non da solo aiutato da un grande gruppo di persone che erano innanzitutto quelli che lo hanno conosciuto da subito io e concludo ho avuto un amico di Letto Monopelo che faceva il muratore Nicolino Di Paolo che mi ha sempre parlato dell'onorevole Mancini tant'è che mi sembrava sempre che stesse dietro l'angolo a Letto Monopelo poi diceva ma quando è che me lo fate conoscere? poi mi hanno detto che non c'era più insomma che purtroppo era stato richiamato dal senso con queste parole ho voluto portare rispetto anche ai tanti che mi hanno parlato di Mancini grazie grazie Francesco Amagini Letto Tecco Letto Monopelo ho avuto da giovane una spazzata in gestione sessant'ultima una staglose densa che ha nutrito però non solo con qualche inevitabile lettura ma che si ha secondo la moda dominante del tempo una moda che per certi versi sta tornando ma con gli studi severi di economia diritto politica e storia quindi non a caso e il caso ci assomiglia come diceva uno scrittore francese non a caso si è cementato in questa impresa di intrarre da queste capi